Sì, ha fatto brrrr, popa! Non puoi chocarci! Guardi, non c'ho paura! Anche tu hai fatto il tiro di nuovo? Nooo! Brava Bobby! Ma gli fai gli inchini all'asinello te! Così, un po' di comportamenti sostitutivi, giusto te! Ma che febbre! Non è un cane! Occhio Giac! Già via di lì! Ora non c'era spazio! Eh? Non c'era spazio! Già ci ha toccato, non so quante volte! Opa! Non si può! Bene! Molto bene! Già! Sì